Iniziamo il lavoro su Malevich con la parte generale. Volevo iniziare proprio dal personaggio e da che cosa ha comportato la sua rivoluzione artistica all'interno dell'astrattismo e in particolare dell'astrattismo geometrico. Nasce nel 78, in Russia quindi fa parte della generazione di Kandinsky, di Klee e fa molta fatica a studiare, è il primo di 14 figli, non viene ammesso all'accademia, ha un carattere proprio molto duro, ha fatto il despota in famiglia, ha una fortissima ambizione. Però riesce ad affermarsi e la parte iniziale della sua opera viene influenzata dal lavoro del cubismo e del futurismo. Anzi, il futurismo gioca un ruolo molto importante perché, vi ricordate la famosa mostra dei futuristi alla galleria Blenheim-Jean a Parigi del 1912, viene portata in giro per l'Europa e darà origine a una disseminazione del verbo futurista, a partire dal vorticismo in Inghilterra e poi appunto il cubo futurismo in Russia. Si distaccherà da questa versione russa del futurismo nel 1915, quando darà origine al suo gruppo. Questo gruppo viene però ad essere coagulato attorno a due mostre fondamentali, una si chiama Tramvai Quinto e l'altra si chiama Zero Dieci, che vengono organizzate nel 1915 a Mosca, dove espone lui ma espongono altri suoi amici sodali del gruppo. Ecco, è stato difficile per la critica lavorare sull'opera di Malevich perché lui andò incontro alle purghe staliniane dopo una notevole partecipazione, un impegno nel periodo pre-rivoluzionario, fervido anche credeva ovviamente nella rivoluzione e anche un impegno molto fattivo nella costruzione della nuova scuola, delle nuove scuole, delle nuove accademie d'arte in Russia come Kandinsky, come tantissimi altri artisti, Tatlin, Rochenko, si sono impegnati nella fondazione di nuovi musei, di nuove scuole a servizio del popolo, anche lui ha partecipato attivamente, ma era anche un iracondo, era anche una persona che tentava di primeggiare, per cui buttò fuori Chagall dalla scuola, dall'Accademia di Vitebsk, litigò con Ronchenko, si trovava lontano dalle posizioni di un'arte al servizio della rivoluzione, di un'arte funzionale alla comunicazione dei temi e del pensiero della rivoluzione. L'arte non doveva essere solamente questo, anzi l'arte per lui era qualcosa di molto più lontano. Vi dicevo che appunto quando poi arriva già c'è una prima rottura che è questa, con il gruppo dei costruttivisti nel 21, ma poi con il 23 e l'imposizione dell'arte realista da parte di Stalin, come in tutte le dittature, l'arte deve essere realista, deve comunicare i valori della dittatura in maniera chiara, lui via via venne esautorato di ogni funzione, ma poi soprattutto confinato quasi in solitudine. Tant'è che appunto la critica non ha avuto materiali per lunghissimo tempo, anzi dovete pensare che i suoi quadri vennero confiscati e rinchiusi nelle segrete dei musei russi. Qualcosa cominciò a emergere in Russia negli anni 60, ma è solamente con la glasnost di Gorbachev negli anni 90 che gli studiosi occidentali poterono mettere mano a molto più materiale. Quel pochissimo materiale che era arrivato in Europa era stato per un evento assolutamente casuale. Nel 27 lui si era recato in Olanda perché allo Stadelic di Amsterdam c'era una mostra sull'astrattismo. venne richiamato in patria immediatamente con un telegramma, non si sa bene se per motivi politici o per il malore di qualche familiare e lui non poteva più emigrare e non poteva più uscire e recuperare i suoi materiali e neanche i materiali tornarono indietro. Per cui c'era questo piccolo gruppo di opere e c'è tuttora lo Stadelic ad Amsterdam e nulla più. Quindi anche il lavoro critico su Malevice è sempre stato ridotto e comunque si deve agli ultimi 30 anni. La svolta molto importante nel suo lavoro avviene già nel 1913 quando insieme al suo amico, al musicista Matiuscin e allo scenografo Kruschenich il sceneggiatore Kruschenich produce le scenografie per l'opera lirico-teatrale Vittoria sul Sole. In quest'opera lui appunto produsse il primo famoso quadrato nero su fondo bianco, era proprio la scenografia. Questo pezzo teatrale parlava appunto della cacciata del sole che era la vecchia energia grazie a uomini nuovi che avevano scoperto come usare la tecnologia per liberarsi dalla dipendenza dalla natura e ottenere nuove fonti di energia. Quindi capite bene un tema interessantissimo, negare appunto le forze della natura ha un parallelo anche in arte nella negazione del naturalismo ottocentesco che vediamo comune insomma a tutte le avanguardie del Novecento e il suo astrattismo geometrico diciamo prende la via appunto con questa scenografia e lui definisce il suo modo di fare astrattismo suprematismo cioè la supremazia della natura, dell'uomo sulla natura scusatemi. Il quadrato nero per lui è il germe di tutto un nuovo potenziale che acquisterà una forza grandiosa in futuro qual è questo potenziale? Il potenziale umano perché il quadrato non esiste in natura, è l'unica forma che la natura non produce è l'unica forma frutto della razionalità greca, della razionalità delle origini della matematica e della geometria del mondo occidentale e quindi questa supremazia dell'uomo rispetto alla natura la natura partorisce forme circolari, rettangolari, pensiamo a una pietra che si spacca in forme poligonali o tutta al più se è molto compatta in forme rettangolari, ma per formare un quadrato ci vuole appunto la razio dell'uomo, quei concetti di simmetria e di armonia che sono pensiero base della cultura greca. Ecco questo quadrato tra l'altro per lui è proprio un elemento originario perché il quadrato è la base da cui parte tutto, da un quadrato parte un cubo e lui ritrova anche nel quadrato l'origine della sfera, ecco e quindi inizia a ragionare a partire da un periodo che lui definisce alogico, cioè in cui si elimina la logica, questo periodo alogico è un superamento del cubo futurista, perché anche lui come vedremo Idada sostiene che la civiltà ha basato tutto sulla tentativo di cercare soluzioni all'interno del sapere scientifico e questo ha portato a nulla di fatto. Il sapere scientifico mi viene da dire è un sapere estremamente oggettivo e quindi basato appunto su dati, su numeri, su fatti, su fenomeni certi, sperimentabili, concretamente verificabili. E quindi lui dice perché non fare un tentativo su un piano non oggettivo, quindi azioni non logiche, non scientifiche al di fuori di ogni tentativo di credibilità, validità e certificazione diciamo così. E quindi nelle sue opere non c'è più nessun legame con la realtà come veniva nei futuristi e nei cubisti, dove il legame con la realtà è necessario, è sempre fondante e cominciano a danzare nelle sue opere queste forme. Le prime opere suprematiste, quelle che si chiamano suprematismus, le trovate in rete, supremus 56 eccetera eccetera, sono sempre generate attorno magari a delle linee diagonali, a delle linee di forza, però sono tutte forme che danzano quasi in un campo libero. e sembra che abbiano dei rapporti comunque sempre armonici di tipo musicale, lui è appunto vicino a questo suo amico Mattiuscin, l'autore della vittoria sul sole, ma queste forme non significano niente, magari l'ispirazione non so, gli è arrivata dai ballerini che danzavano sulla scena, ma non significano niente, sono proprio rapporti di forme che ci inducono a muovere lo sguardo dall'esterno verso l'interno, cioè da ciò che succede nella realtà, nell'immanente, ciò che è necessariamente reale, a ciò che invece sta dentro di noi. Ecco, è chiaro che c'è una forte anelito, una forte tensione verso l'elemento spirituale, ma come è stato ovviamente sottolineato da critici ben più importanti e più famosi della sottoscritta, l'anima russa è un'anima spirituale. Ecco, vi ricordo che parecchi anni fa, forse una ventina, il compianto Cortenova aveva organizzato qui a Verona, proprio una mostra che si intitolava Kandinsky e l'anima russa. Ecco, l'altro elemento interessante è che questo stile che lui inaugurò, coagulò attorno a sé numerosissime energie, numerosi altri artisti nel clima pre-rivoluzionario, era qualcosa di liberatore, rispetto all'arte realista russa. Ecco, vi ricordo, o comunque vi dico che noi non l'abbiamo fatto in classe, il realismo russo, la scuola del Volga per esempio, ha una coda molto lunga anche nei primi anni del Novecento, è una forte componente dell'arte russa. E quindi tantissime forze si coagulano intorno a lui, soprattutto donne, ecco tantissime donne, la Popova è la più famosa, ma Lorozanova, Alexandra Ekster, Vera Pestel, addirittura perfino il linguista Jakobson, uno dei fondatori della nuova linguistica. Ecco, giusto per capire come anche la lingua si stesse occupando di cercare le strutture fondanti del proprio fare, del proprio pensiero. Ecco, ovviamente vi avevo già detto del suo impegno nei confronti dello sviluppo dell'insegnamento dell'arte dei musei nella Russia rivoluzionaria, però addirittura lui arrivò a concepire una dilatazione dei suoi quadri a scopo architettonico, passò ad una formazione di tipo scultorio, a una tridimensionalità scultoria delle sue opere che lui definiva architettoni e poi una serie di disegni preparatori di architettura detti planiti, in cui lui addirittura sognava, progettava abitazioni collettive sopraelevate, spesso addirittura in forma di aereo, da collocarsi persino sopra la terra. Ecco, questo è interessantissimo perché questo risvolto architettonico ci fa vedere da una parte il sogno dell'utopia della rivoluzione russa, cioè che il contributo degli artisti fosse quello anche ad una vita migliore di tutta la collettività e poi questo sogno di questi edifici al di sopra della terra, un richiamo alle architetture che Antonio Sant'Elia aveva elaborato all'interno del gruppo del futurismo italiano, ma poi ancora queste architetture anticipano quello che è il lavoro poi di Le Corbusier negli anni 20 e 30. Ecco, l'idea è interessantissima perché queste case, queste strutture a metà via tra la terra e il cielo dovevano costituire una sorta di tramite e di forme collettive di abitazione proprio tra la terra e il cielo, quindi con una sensibilità anche di tipo spirituale per chi ci abitava dentro senza contare appunto il pensiero che c'era rivolto nei confronti della collettività. Ecco, la sua carriera così fortemente innovativa, come vi dicevo prima, si interrompe con le purghe staliniane e pochissime furono le possibilità che lui ebbe di esporre, morì in miseria, però continuò sempre a dipingere, anche se le ultime opere cercatevi contadini, cercatevi opere di questo genere, sono dominate sempre da una forma realiste, sono sempre dominate da una forma geometrica molto netta, da un richiamo ai volumi, con un'atmosfera insomma molto sospesa, molto irreale che alla lunga ricorda anche qualcosa di Piero della Francesca. Ecco, il suo lavoro è stato però fondamentale per lo sviluppo di tutte le avanguardie russe, anche il costruttivismo, anche il costruttivismo dal punto di vista della grafica, dal punto di vista dell'architettura, sicuramente sono debitori di questa rottura e di questo lavoro che Malevich introdusse nella cultura russa.